Sono con l'architetto Luca Lopatriello che è il designato assessore ai lavori pubblici all'urbanistica, all'edilizia, al patrimonio e al risanamento della città vecchia. In una sola parola si occuperà di opere pubbliche. Ho deciso di annunciare i vari componenti della Giunta per una questione di trasparenza nei confronti dell'elettorato. I cittadini che mi voteranno, che voteranno Taranto senza Ilva, devono sapere gli uomini con i quali intendo amministrare questa città. Oggi con Luca Lopatriello parliamo dei fondi, l'importanza, la strategicità, dei fondi, intesi come opportunità e responsabilità. Hai detto bene Luigi. I fondi ci sono, perché sappiamo tutti i piani dedicati a livello europeo, nazionale, è un'opportunità, chiaramente, come tutti stanno dicendo, ma in pari modo sono anche delle responsabilità. Responsabilità anche ai mancati agganci a questi fondi. Perché voglio dire questo? Perché io faccio l'esempio del PNRR, che è quello un po' più discusso, che sembra, ripeto, tagliato per la città di Taranto. Si parla di fondi per la salute. Ecco, io parto dal problema più grave per Taranto. L'emergenza assoluta. Non certo dal green, che poi voglio dire, faccio una battuta. Green, non si diventa green o verdi o pro futuro comprando le piante. Io ne ho tante in giardino, ne ho alcune anche finte. Pensiamo un po'. Il green è una mentalità, il green è un modo di essere. Bisogna lavorare anche sui Tarantini, perché bisogna dire che, no, bisogna lavorare anche sulla mentalità, far capire di quanto sia importante. Però non c'è solo quello. Quindi c'è, ripeto, le PNRR tra le missioni e la salute, c'è le infrastrutture e la mobilità sostenibile. Non solo mobilità sostenibile, quindi o il monopattino, o la bicicletta, o la pista ciclabile. Si parla di infrastrutture. Cioè, se si vuole, come noi vogliamo, su Taranto una trasformazione radicale, interventi strutturali che siano rapidi e non tacconatori, o, diciamo, progetti ad hoc fatti per dire noi stiamo facendo qualcosa, bisogna che questi fondi vengano adoperati. E quindi, ripeto, quel concetto del laboratorio di progettazione, di idee, perché se non si hanno i progetti, non arriviamo a nulla. Progetti, ripeto, che devono avere, scusate la ripetizione, ma tutti questi punti che stiamo trattando in questi nostri incontri, sono tutti punti fondamentali. Quindi io tornerei a quello che è il punto uno, la visione. I progetti che noi andremo a fare intercettando i fondi, sono figli, componenti di quella visione che noi abbiamo di Taranto.